Musica Musica Qui incontriamo Atena, dea della giustizia, la stessa che abbiamo già incontrato nella carta dell'innamorato. Secondo il mito, suo padre era Zeus, re degli dèi, il quale era stato avvertito da Urano che se avesse avuto una figlia dalla sua prima moglie Meti, dea della saggezza, essa sarebbe stata più potente di lui. Per prevenire tale eventualità, egli divorò Meti prima che potesse dare alla luce la figlia che portava in grembo. Poco tempo dopo, Zeus fu preso da un insopportabile mal di testa. Per curarlo, Efesto, il dio Fabbro, gli aprì la testa con un'ascia di bronzo e dalla ferita uscì Atena, già armata di tutto punto, gettando un trionfale grido di vittoria. A quella vista, gli dèi immortali furono presi dallo stupore e dalla meraviglia. La dea divenne la figlia favorita di Zeus, la cui predilizione nei suoi confronti era così forte da suscitare la gelosia degli altri dèi. Il carattere bellicoso di Atena fu immediatamente evidente sin dalla nascita, ma ella era diversa da Ares, dio della guerra, sotto molti punti di vista. L'arte della guerra coltivata ad Atena non si basava sulla predilizione per il combattimento e gli spargimenti di sangue. Al contrario, essa si ispirava ad altri principi e alla precisa consapevolezza della necessità di combattere per difendere e propagare la verità. Ella somigliava più a uno stratega che a un rude guerriero e contraponeva all'aggressività fisica di Ares, la forza e la logica, la diplomazia e l'astuzia. Atena proteggeva gli arditi e i valorosi e divenne la protettrice di molti eroi, ma la protezione che ella offrì a Perseo, a Ulisse e ad altri famosi guerrieri consisteva sempre in armi che dovevano essere usate con intelligenza, astuzia e breveggenza. Atena costituì un'evidente eccezione nella comunità olimpica a causa della sua castità e inoltre ella rese un pregevole servigio all'umanità. Infatti insegnò l'arte di domare i cavalli e diffuse alcune arti ed abilità manuali, tra cui quella della tessitura e quella del ricamo. Tra le sue molteplici attività c'erano non solo quelle finalizzate ai lavori utili, ma anche quelle inerenti alla creatività artistica. Quindi ella fu una dea molto colta, pur restando una combattente allorché si rendeva necessario difendere la pacifica cultura a cui ella presiedeva. L'arcano numero 8 è la giustizia. Nel mio mazzo di tarocchi di Marsiglia, diciamo proprio quello classico, è una carta estremamente potente, statica, ferma. Lo sguardo di questa donna forse è senza espressione, la bilancia è proprio ferma, in preciso equilibrio. Insomma è una carta che quando la vedo è come se il tempo si fermasse. È arrivato il momento di fermare tutto e fare un bilancio, un bilancio tra ciò che si sta vivendo, tra ciò che si vuole vivere, verso il cammino che si sta facendo, il cammino verso il quale si vuole andare. Insomma c'è da prendere una decisione e per prendere questa decisione, per fare la cosa giusta, arriva il momento della sospensione, arriva il momento del fermo, arriva il momento dove tutto il mondo fa silenzio, si entra in uno spazio totale di vuoto e di silenzio e si cerca di capire cos'è la cosa giusta. Certo sì, poi possono esserci cose con la giustizia eccetera, però a livello proprio evolutivo quello che mi dice questa carta è questo, ferma tutto, stop, il tempo si ferma, ora valuta. Questo ha giustizia per la cartomantire spiritosa. Ciao a tutti da Cartomatta, allora la carta della giustizia vuol dire che ci verrà fatta giustizia nei nostri confronti. Qualcosa ci ritornerà a favore nostro perché ci hanno fatto un torto e probabilmente questa cosa all'altra persona ci torcerà contro e a noi ci verrà a favore. Oppure è una questione legale, ci sono dei divorzi, separazioni, oppure comprare casa, vendere casa, oppure vuol dire essere giusti con se stessi, cercare di essere obiettivi e non pesare troppo le cose con noi stessi. Ok, dunque la giustizia potrebbe essere anticipata sempre da una torre oppure che vorrebbe dire che c'è una rottura e c'è una separazione in corso con gli avvocati. Oppure ci potrebbe essere un asso di spade dopo, la giustizia. Dunque si potrebbe dire che grazie alla giustizia si farà chiarezza nelle situazioni. Ok, oppure potrebbe essere la giustizia con l'anticipo anticipata con il sette di coppe che vuol dire avere confusione. Ok, confusione non sapere più quale cosa è giusta o no. E questo è la giustizia. Bacione a tutti da Cartomatta. Salve, sono Mother Moon. La giustizia per me rappresenta una ricerca di un equilibrio sentimentale e non. O magari anche alcuni procedimenti penali e civili per una situazione in corso che possa essere matrimoniale o anche no. Quando mi esce questa carta e mi hai già chiesto se lui o lei ti torna, non posso darti una risposta immediata. Ma andando a girare altre carte e mi si vanno ad affiancare un re di bastone, un otto di coppe, un set di spade, allora il puzzle inizia a prendere forma. Alla tua domanda posso darti anche la risposta. Per me non torna. Non torna perché forse la vostra storia non è poi così importante. O magari è iniziata da poco e forse non è pronta o pronta a lasciare la sua vita di sempre, la sua stabilità per te. Quindi preferisci andare via, allontanarsi da te, per andare verso acque più tranquille o per restare nelle acque più tranquille, più comode per lui o per lei. Quindi vuoi un consiglio? Ma vattene a trovare anche tu le acque più tranquille e più adatte per te. Non aspettare. Ciao, sono Daniela di Tarocchi e di Desiree. Oggi parliamo della giustizia e come la identifico sempre io, la donna è incazzata. Perché? Perché la giustizia è riportare equilibrio nella propria vita. Significa tagliare con il passato e riportare equilibrio. Quella bilancia deve ritornare in equilibrio. Il dare e il giusto ricevere. La giustizia rappresenta per me, quando esce vicino a un papa, anche il divorzio. È una carta che mi indica divorzio, che mi indica problemi legali, problemi giudiziali e abbinata al mondo mi identifica che la propria energia è in equilibrio. Ciao, da Cinzia di Segni, Sogni e Tarocchi. Ecco il nostro ottavo incontro, con la carta della giustizia. E che dire, giustizia sia, eh? Qui questa carta ci dà la correttezza, la compostezza e l'irremovibilità. I simboli che la caratterizzano sono appunto la spada e la bilancia. Si pesa e poi si taglia, proprio per far giustizia. Bene ragazzi, questa carta, preceduta da un paggio di bastoni e seguita da un 6 di denari, un messaggio in arrivo da ben valutare, per ottenerne il migliore dei risultati. E con questo vi saluto appunto con l'augurio di una buona valutazione a tutti e ciao, alla prossima! Ciao, sono Tarocchi Polvere di Stelle. Per me la carta della giustizia è una carta che ci esorta a fare dell'introspezione per mettere in equilibrio il nostro essere e ci aiuta anche a prendere le giuste decisioni nelle strade da percorrere. La giustizia è una carta che in un certo senso ci restituisce ciò che abbiamo seminato, questo sia nel bene che nel male. Ciao, sono Lady Kay. La giustizia è una carta che mi indica principalmente le conseguenze delle proprie azioni, conseguenze ovviamente nel bene o nel male. Pertanto consiglia il consultante di farsi un esame di coscienza, un esame profondo di se stesso, dando la possibilità di rimediare agli errori commessi. Se la dovessi incrociare con la carta degli amanti, mi potrebbe indicare, ovviamente servirebbero anche altre carte, ma potrebbe indicare una relazione karmica, oppure il bisogno di prendere alcune decisioni per il proseguimento o l'interruzione di quello che è il rapporto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.